Il primo incontro ieri a Palazzo Baronale tra la consulta cittadina e la nuova squadra politica con delega alla nettezza urbana, composta dal consigliere Luigi Mele, il nuovo assessore all'NU in Mamarra e la dirigente Claudia Sacco. Discusse le tematiche inerenti alla situazione di emergenza rifiuti che la città sta affrontando. La consulta ha proposto un documento con delle soluzioni valide per combattere questi episodi che da anni colpiscono Torre del Greco. Abbiamo ascoltato la presidente della consulta cittadina Clementina Sasso. La consulta è venuta insomma a conoscere il nuovo assessore, la nuova assessore ai rifiuti e a proporre insomma, a farsi conoscere prima di tutto e a proporre un piano di sensibilizzazione che deve essere sviluppato ovviamente in collaborazione con l'amministrazione e quello che noi proponiamo anche con tutte le associazioni del territorio non solo con la consulta. Quali sono i punti fondamentali di questo documento? La collaborazione, quindi creare una rete tra le sfruttare tra virgolette ovviamente in senso buono i comitati di quartiere, le scuole, le comunità parrocchiali perché si creino appunto dei bacini dove educare la popolazione alle buone pratiche insomma per la raccolta differenziata, per il rispetto dell'ambiente e tutto quello che appunto ne ne consegue perché appunto l'ambiente vita, un ambiente salubre consente una vita vissuta insomma per bene. Si è parlato molto anche del problema rifiuti che è uno dei problemi principali, quali potrebbero essere delle possibili soluzioni? Noi come consulta insomma abbiamo sempre, abbiamo già portato dei documenti all'attenzione dell'amministrazione e di base erano tutti improntati al rispetto del capitolato d'appalto da parte della ditta. Già quello insieme appunto a quest'opera di sensibilizzazione della popolazione perché se non collaboriamo tutti insieme sia dall'alto che dal basso non arriviamo a nulla e quindi appunto già il rispetto del capitolato d'appalto da parte di tutti e rispetto alla differenziata da parte dei cittadini quello già sarebbe un grosso passo e dobbiamo partire da quello, da quello che già c'è su carta e non viene attuato. Sicuramente c'è anche il buon senso dei cittadini che deve essere primario. L'assessore diceva che anche loro non vogliono entrare subito a gamba tesa con le multe e come non possiamo essere d'accordo proprio visto il piano di sensibilizzazione che abbiamo portato perché bisogna capire se c'è appunto il dolo da parte del cittadino o è perché è una mancanza da parte dell'amministrazione nella sensibilizzazione e nella corretta informazione sullo smaltimento del rifiuto. Grazie